yo yo bello amici celebrity hacker allora andate a vedere sul mio canale valkyria lavender penelope latex usagi che l'ho appena fatto e adesso andiamo a scoprire le foto della nostra mitica chloe! Chloee, allora andiamo giù, go 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 v1514141456 perfetto BAM non ce l'abbiamo fatta va bene così va benissimo così tempo passa allora qua ci stanno lì fermi fanno lì vai ah quello magna tutto però ok in barchetta grandissima Chloe Chloe in barchetta aspetta potevo non farmi mangiare fa niente fa niente oh così tu sei chiuso dentro tu sei chiuso dentro facciamo per piccoli pezzi perché poi arrivano quelli lì nooo Marco sei andato addosso proprio ok così preferisco togliermi di così c'era quasi arrivato guarda questo qui dove è venuto proprio uno spittico grande Chloe passa una bella giornata sul lago di Garda con la barchetta eh li ho fatti tutti a tre stelle questi qua però chiaramente devo andare a sbagliare una piccoletta come tira quello lì ah sì ci volevano anche oh vanno pochissimi sto perché è stata bella anche sotto a quello che si dentro mi tirano la metà ok così non mi dice più a rompere ci sono schiantato io no 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 Marco qui è troppo pericoloso andiamo via sì vabbè dai chiantami che tu questo lo metto l'alto questo non mi prende continuo a distruggermi la roba boom che bella botta che dovevo qua andiamo di qua perfetto la bomba bravo bravissima Chloe prendi il sole in questa magnifica giornata di agosto il lago di garda sulla barchetta va bene dai non abbiamo fatto nessuno a tre però poco importa l'importante era finire per vedere effettivamente la prossima nostra amica che si chiama Scarlett guardate quanto ce ne sono amici amici come noi le hanno comprate va bene fa niente Chloe bellissima Chloe ci vediamo nel prossimo episodio celebriti anche il gioco carino che trovate gratis sullo store ma sinceramente poi dovete comprare i personali guardatelo qui da Marco Drums Games ciao ah mi raccomando iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto